Vi diciamo la verità, volevamo fare un video di Street Fighter Diglielo Ma Dalby sta disinstallato Esatto E questo è un affronto E' un affronto E' una minaccia per tutti gli amanti E dato che probabilmente uscire a Mortal Kombat E anche Binding of Isaac viene trattato nel nuovo canale dei Giga Bros Z Mi raccomando iscrivetevi al nuovo canale Cliccami Subito, su, così ti guardi il video Tante novità, tante cose belle Andiamo a iscriverti So che vuoi iscriverti Tu vuoi iscriverti Tu vivi per iscriverti Dai Clicc, clicc Hai cliccato Bravo Mamma mia che incontra E' un figlio di Isaac